Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Incendio nella serata di ieri nella chiesa di San Marco in Villa, località del Cortonese. L'edificio sarebbe già stato inagibile, quindi comunque non accessibile al culto prima dell'incendio. A seguito dell'allarme lanciato per via del denso fumo che usciva proprio dalla chiesa, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Camucia, i vigi del fuoco e del distaccamento di Tavarnelle. È verosimile che il rogo sia stato di origine dolosa perché sarebbero stati trovati alcuni inneschi. Svolta clamorosa sul caso dell'antenna di via Sicilia ad Arezzo, alla fine è arrivata la risposta del processo di autotutela avviato dal comune di Arezzo e l'antenna dovrà essere dismessa. A nome di tutto il comitato si esprime la nostra soddisfazione per il provvedimento del comune. È un provvedimento importante che ripristina i diritti di tutti i residenti. È importantissimo però che a seguito di questo ci sia immediatamente l'ordinanza con cui la Nuit sarà obbligata, il comune la deve fare nei 30 giorni, ma noi chiediamo che la faccia immediatamente, con cui ingiunge alla Nuit il ripristino dei luoghi in modo tale che il mostro venga definitivamente tolto da questa zona. Stop all'antenna di via Sicilia. Ad annunciarlo è il comune di Arezzo che ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione alla costruzione precedentemente accordata. In sostanza fa sapere l'amministrazione a prevalere stata la necessità di tutela della salute pubblica più che quella di garantire i servizi di telefonia. Peraltro a proposito del segnale l'aria sarebbe già ben coperta. Il comune ha così proceduto alla redazione di un provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela riguardo all'installazione. Sono state inoltre evidenziate le mancate indifferibilità ed urgenza, dice il comune, quali presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e l'indisponibilità della ditta di individuare una diversa possibile collocazione dell'impianto come invece richiesto dall'amministrazione. Così è stata presa la decisione del ripristino dello stato dei luoghi, cioè l'antenna va smontata. Tutto questo percorso è una grande soddisfazione, soprattutto per i residenti, perché hanno lottato strenuamente. Noi abbiamo fatto anche un ricorso al TAR e poi è seguito anche il provvedimento del comune. È una grandissima soddisfazione di partecipazione civica, di impegno civico. Un ringraziamento particolare in questo contesto va alla vice sindaca Lucia Tanti che ci ha seguito e sostenuto. Un'amministrazione tanto più forte politicamente quanto più sa dimostrare di avere in sé gli anticorpi per correggersi prima che eventuali criticità si stabilizzino nel tempo, ha dichiarato Lucia Tanti. A questo servono i procedimenti in autotutela e saperli usare è un punto di orgoglio per chi amministra. Più che un passo indietro, conclude, mi sento di dire che questo è un passo avanti. Perché il parere che è stato acquisito dal comune all'interno del procedimento di autotutela non è un parere della stessa amministrazione. Ma è un parere esterno quindi di un organo che non è coinvolto politicamente in questi interessi. E a fronte di questo spererei che la Inuit, anche nel rispetto dei diritti dei cittadini qui residenti, non impugni di fronte al TAR né il provvedimento di autotutela né la successiva ordinanza. Sono state riaperte le due scuole del plesso scolastico di Cesa, frazione del comune di Marciano, che erano state chiuse perché a seguito di un controllo di routine nelle tubature dell'acqua era stata riscontrata la presenza di legionella. Dopo i dovuti atti di sanificazione, l'amministrazione comunale ha riaperto le scuole e fa sapere che fornirà per i prossimi giorni l'acqua per bere e anche per lavarsi le mani ai due plessi. E adesso invece parliamo della stazione Medio Etruria, stazione dell'alta velocità, dopo quanto annunciato dal ministro Matteo Salvini, ovvero che la stazione si farà a Creti, e anzi ha anche detto che nelle prossime ore darà ulteriori dettagli per quello che riguarda i prossimi passi di avvicinamento a questo importante progetto. Oggi prende posizione il Comitato Sava. Purtroppo la notizia è giunta, noi da una parte ce l'aspettavamo perché comunque ci sono le elezioni in Umbria, quindi noi consideriamo anche questa uscita un proprio tempismo perfetto per fare un assist politico alla Tesei. Ricordiamo che a metà novembre ci sono le elezioni in Umbria, quindi questa è una carta che la Lega giocherà per riconfermare Tesei, a danno purtroppo del territorio aretino, che ricordiamo è il secondo compartimento industriale della Toscana. Non ci va leggero Matteo Galli, presidente del Comitato Sava, stazione alta velocità, rezzo nel commentare l'annuncio del ministro Matteo Salvini di poche ore fa. La localizzazione di Medio Etruria, la stazione sulla tratta dell'alta velocità che attraversa Toscana e Umbria, si farà a Creti. Una scelta che sarebbe stata determinata dal miglior rapporto costi-benefici, ma non è dello stesso parere il Comitato. Per l'occasione noi riapriremo la petizione su change.org perché questa storia non ci va giù, quindi anzi invito gli aretini a continuare a firmare per fermare questo folle progetto della Lega Umbra e anche nazionale. Il Comitato è non solo, si sono espressi tanti amministratori pubblici, uno su tutti, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, sostiene invece da tempo che la localizzazione più idonea sarebbe Rigutino, frazione del Comune di Arezzo, proprio per ragioni tecniche. Essenzialmente ci aspettavamo come ci aspettiamo responsabilità, che ad oggi sembra l'eterna sconosciuta. Il centrodestra, sicuramente come il Comitato, ma anche tanti cittadini auspicano, è chiamato ad una riflessione selvaggiamente sincera e da lì trarrà ogni debita conclusione. E allora, dopo aver sentito la posizione del Comitato Sava, oggi nell'Aretino c'era anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, per un sopralluogo già fissato da tempo lungo la regionale 71 a Camucia, la nostra inviata Laura Lucente, gli ha chiesto ovviamente anche una presa di posizione su quanto dichiarato nelle scorse ore dal Ministro Salvini. Gianni ha ribadito che l'indicazione della Regione Toscana per una stazione appunto dell'alta velocità per la Medio Etruria rimane Rigutino. Ecco, però una battuta su Medio Etruria ce la consenta? Semplicemente tutti sanno la mia posizione, ovvero che Medio Etruria è una stazione che viene a essere in un territorio che si chiama Toscana e quindi ritengo che quando si vuole prevedere una previsione di progetto si debba tener conto del Governo della Toscana. Il Governo della Toscana ha già indicato da tempo che la soluzione per una media stazione Valdarno è quella di Rigutino, perché indubbiamente vi sono tre motivazioni forti. Una, la connessione fra la linea lenta e la linea veloce del treno. Le stazioni si fanno dove ci si può scambiare e conseguentemente in quel caso a Rigutino c'è la possibilità anche per chi viene in treno di potersi connettere alla stazione Medio Etruria che porta sull'alta velocità. In secondo luogo vi è un territorio abitato da un numero di persone tale da giustificare maggiormente l'investimento della stazione media. In terzo luogo su Creti, io conosco bene la Valdichiana, è uno dei territori più fragili della Toscana, è stata per secoli una palude. I cambiamenti climatici di oggi versare una distesa di cemento come quella che nelle ipotesi progettuali che sono state fatte si può osservare dal ponticino in cui da Cortona si va proprio nella località di Creti. A me sembra anche solo da un punto di vista del buonsenso una violazione dei più elementari principi di sostenibilità ambientale che si possano cogliere. Chiederà al Ministro un incontro per discutere di questo? Ritengo che vi sia la necessità di approfondire quelli che sono gli annunci che sono stati fatti. Magari se invece che contagiare questi annunci con la campagna elettorale per l'Umbria, visto che si vota fra un mese, queste decisioni si prendono in un momento in cui è più possibile considerare il buon governo, non la strumentalità alla politica partitica, sinceramente è meglio. Toscana è interessata nelle prossime ore da una perturbazione a partire proprio dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani. Il codice è arancione per quasi tutto il territorio regionale con validità proprio dalle 6 del mattino fino alle 20 di giovedì 3 ottobre ad esclusione delle aree nord-occidentali dove il codice invece è giallo. È stato siglato un importante accordo presso la Camera di Commercio di Arezzo. Parliamo di Dogana. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Prosegue e si consolida per il futuro la collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e la Camera di Commercio. È stato infatti rinnovato l'accordo sottoscritto tra le due istituzioni l'11 maggio 2021 con l'obiettivo di rafforzare le relazioni con il mondo imprenditoriale e soprattutto con le aziende che operano con l'estero attraverso la realizzazione di eventi formativi ed informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese. Ricordiamo che siamo in un momento di grande trasformazione a livello doganale. È in corso il processo di riforma del codice doganale dell'Unione. È stata da poco approvata la legge di riforma del testo unico sulle leggi doganali e soprattutto siamo in un momento di grande trasformazione dal punto di vista dell'informazione e dello sviluppo tecnologico anche nelle procedure doganali. Per cui è assolutamente importante raggiungere tutto il sistema imprenditoriale per poter, ripeto, fornire l'assistenza necessaria. Ricordo la nostra altissima vocazione verso l'airsport come territorio provinciale che vede appunto la presenza di distretti manifatturieri importantissimi e quindi hanno necessità, consulenti, operatori, di sostenere e accompagnare le imprese in linea con quelle che sono le novità normative sempre attuali. Lo facciamo per tanti settori, ovviamente l'oro in primis, ma lo facciamo per il settore del made in Italy, della moda, lo facciamo per il settore agroalimentare, del vitivinicolo, tanto per citarne alcuni che sono ovviamente i comparti principali del nostro ambito camerale, quindi Arezzo e Siena. E ovviamente lo facciamo con la competenza e l'assistenza appunto dell'Agenzia delle Organe dei Monopoli che insieme a noi, insieme a Promosiena-Arezzo, ovviamente organizza delle giornate di studi, di approfondimento, di seminari per poter mettere a disposizione tutte le notizie necessarie delle nostre imprese per poter affrontare i mercati e ovviamente vincerli come i numeri appunto ci dicono, visto che il territorio della nostra Camera riesce a coprire oltre un terzo delle esportazioni regionali, che quindi diventa davvero strategico e importantissimo. Si è insediato oggi ufficialmente il nuovo prefetto di Arezzo, Clemente Dinuzzo, e con grande emozione e piacere scrive nel suo primo messaggio alla cittadinanza che assumo oggi le funzioni di prefetto della provincia di Arezzo, provincia ricca di tradizione e cultura permeata di un forte senso civico e di straordinari esempi di operosità e laboriosità. È nella consapevolezza di ciò che svolgerò il mio incarico in un rapporto di sincera e leale collaborazione con tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio. Domani tra l'altro ci sarà l'incontro proprio anche con la stampa e quindi torneremo a farvi conoscere all'interno del nostro telegiornale il nuovo prefetto al quale ovviamente facciamo i migliori auguri di buon lavoro. La fantasia, l'audacia e l'assenza di scrupoli dei truffatori non conosce limiti ad intervenire sul tema. È Chiara Rubiani, presidente di Feder Consumatori Arezzo, che mette sull'attenti e sull'allerta soprattutto i cittadini perché pare appunto che ci sia una nuova truffa all'orizzonte. Presunti incaricati di Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente che appunto svolge attività di regolazione e controllo si presentano ai cittadini nell'intento di carpire nuovi contratti per l'energia elettrica e per il gas naturale. L'invito di Feder Consumatori è di prestare la massima attenzione di fronte a questo tentativo di truffa proprio per carpire l'assenzo e stipulare appunto nuovi contratti di energia. Conflitto in Medio Oriente, il Vescovo di Arezzo indice, una giornata di digiuno e preghiera per la pace, un'occasione per pregare anche per la visita che i Vescovi toscani dovrebbero fare, ovviamente conflitto permettendo in Terra Santa dal 14 al 17 ottobre prossimi. Una giornata di digiuno e preghiera per la pace, è quella indetta dal Vescovo di Arezzo Cortone e Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca in contemporanea alla chiesa che è in Gerusalemme come proposto dal Cardinale Pier Battista Pizzaballa. È importante e necessaria la preghiera di fronte all'insensatezza e alla violenza della guerra, spiega Monsignor Migliavacca che ha chiesto che ogni messa il 7 ottobre prossimo in tutte le parrocchie della diocesi venga celebrata con l'intenzione per la pace e la giustizia affinché si fermino le ostilità in tutto il mondo con un pensiero per l'Ucraina e in particolare per tutto il Medio Oriente. Ogni parrocchia inoltre è libera di promuovere ulteriori momenti di preghiera e riflessione come per esempio il Rosario per la pace secondo le proprie possibilità. Sarà un'occasione anche per pregare per il viaggio che alcuni Vescovi toscani assieme ad alcuni giovani faranno in Terra Santa dal 14 al 17 ottobre. Nei giorni scorsi, proprio per l'acuirsi del conflitto in Medio Oriente i frati francescani, di cui due della Verna erano stati bloccati prima della partenza per la Terra Santa. La delegazione dopo 800 anni avrebbe portato per la prima volta nella storia le reliquie di San Francesco d'Assisi a Betlemme e a Gerusalemme. Uno stop per adesso temporaneo, ancora senza una data. Ci spostiamo adesso in Casentino, è una storia che vi avevamo già raccontato quella di Morgana, ragazza che si trova sulla sedia a Rotelle da quando aveva 17 anni, ha dato il via ad una raccolta fondi c'è stata una risposta davvero inaspettata per acquistare un ascensore e adesso anche una giornata proprio dedicata a lei e alla sua raccolta fondi. Io avevo semplicemente bisogno di un ascensore, non volendo gravare sui miei genitori ho deciso di creare questa raccolta. Ovviamente non mi aspettavo che esplodesse come appunto è successo infatti tutto questo amore è stato davvero incredibile. In occasione del suo trentesimo compleanno, Morgana, da anni in sedia a Rotelle a causa di una malattia genetica rara, aveva deciso di lanciare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l'acquisto di un ascensore per poter così accedere alla propria abitazione in piena autonomia. Per uscire, per andare al lavoro per esempio, che io tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle due e mezzo alle sei sono in ufficio con il mio collega e anche lì andare a lavorare e rientrare a lavorare in autonomia sarebbe ottimo. Un appello che dopo numerose adesioni viene adesso raccolto anche da tutta la comunità di Parato Vecchio Stia, che sabato 5 ottobre si ritroverà sotto il tendone del Beer Fest per una cena con musica e spettacolo, i cui proventi saranno destinati al raggiungimento di questo importante obiettivo. Tutta Stia si è attivata per aiutarmi, grazie davvero a tutti perché è davvero incredibile. E allora vi abbiamo detto poco fa di questo codice arancione per la giornata di domani, giovedì 3 ottobre per maltempo in tutta la Toscana, proprio per questo la manifestazione Usa la testa, la giornata dedicata alla sicurezza stradale che si doveva svolgere proprio domani in Piazza della Libertà, Piazza Duomo e Via Ricasoli ad Arezzo, è stata posticipata, in questo caso al 10 di ottobre. Torna il mercato internazionale, oltre 300 gli espositori da tutto il mondo arriveranno ad Arezzo per questa diciottesima edizione. Tantissime conferme a cominciare appunto dai classici, quindi dalla paella spagnola, all'asado argentino, alla piccania brasiliana, ma ci sono anche tante novità a partire dalla Scozia, dalla ristorazione cubana, dall'abbigliamento svedese e nordico, quindi veramente un menù ricchissimo per tutti i gusti. Oltre 300 stand provenienti da 35 paesi con tutti e 5 i continenti rappresentati con il meglio della cucina internazionale, torna così ad Arezzo il mercato dei sapori che quest'anno spegne 18 candeline. Se consideriamo i due anni di stop per la pandemia è un'idea che comincia ad avere 20 anni, 20 anni fa si diceva il giro del mondo in 80 banchi, oggi quei banchi sono diventati 195 quelli provenienti dall'estero e 90 del territorio. Questa è stata una pensata intelligente perché 90 attività tipiche del territorio si inseriscono in questo circuito internazionale che crea una vetrina straordinaria. Il mercato internazionale si svolgerà come sempre nell'area Aeden dall'11 al 13 ottobre, oltre 3 i chilometri del gusto. È un appuntamento oramai fisso in città, è un appuntamento storico che ha sempre successo e quindi perché non continuare. Non solo sapori ma anche artigianato, spettacoli e di intrattenimento musicale. Si conferma la vocazione di Piazza Sant'Agostino, la Piazza della Musica, dove sabato 12 ottobre sarà presente un concerto appunto di Iomagroso, grazie al contributo importantissimo dei commercianti di Piazza Sant'Agostino, della piazza, quindi anche questo voglio ribadirlo, l'importanza di una vetrina non solo per le attività commerciali ma anche per gli istoranti, per le enoteche e per tutto l'indotto economico. E siamo allo sport per la prima volta nella nostra città, l'edizione dei campionati italiani assoluti maschile e femminile della 10 km su strada. È in programma il prossimo 6 ottobre, domenica dalle 15, con un ricco programma in 4 gare dopo le due categorie allievi. La partenza degli assoluti femminili è prevista per le 16.30, mentre per la prova maschile partenza alle 17.30, il percorso è in via Crispi, l'arrivo è all'angolo tra via Roma e via Madonna del Prato. Ad organizzarla l'Unione Polisportiva Policiano sono già oltre 800, gli iscritti ha detto questa mattina Fabio Sinatti in conferenza stampa, in rappresentanza delle più forti società italiane. Tra di essi annoveriamo atleti di spicco con tempi accreditati, importanti e giovani promesse di casa nostra. Ed infine parliamo di tennis, fine settimana di molte prime volte per il tennis Giotto. Il Circolo Aretino vivrà il suo debutto assoluto nel campionato femminile di serie A2. Nel frattempo sarà presente anche con una propria formazione al campionato italiano di tennis in carrozzina, scendendo dunque in campo in due importanti manifestazioni nazionali. I riflettori saranno puntati soprattutto verso la prima squadra femminile che domenica 6 ottobre a partire dalle 10 sarà impegnata sui campi casalinghi del primo turno stagionale contro il tennis training di Foligno. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'ascolto e arrivederci.